Gli fare tanti auguri di un buon anno a tutti quanti voi, da parte mia, uces, come chiamate voi, mi raccomando divertitevi molti e non abbuffate, mangiate pop, state proprio a dieta, anzi, e bevete pure poco, che fa male, che poi quando venite a trovare, sapete che succede? Mi scassate proprio, mi raccomando, mi raccomando, andate via, è pure una cosa a tutti i politici, i cattivi però, i carretici cattivi, quelli là che prendono tutto l'oro, mi siano aiutati, mangiano tutto quanto per loro, non vogliono dividere niente con nessuno, mi raccomando, 2015, dividete un po' con la gente, non prendete solo fuoco, che succede? Voi mangiate, mangiate troppo, mangiate ancora troppo, poi abbuffate e poi scoppiate, fate attenzione, la saluta per me, ok? Mi raccomando, buon augurio, augurio a tutti quanti, augurio a tutti quanti, ok? Ciao! Grazie per la visione!